L'atmosfera di Giffoni è sempre magica, è l'atmosfera dei tanti giovani, dei ragazzi, dei bambini che ieri hanno affollato la cittadella del cinema per la giornata inaugurale della 44esima edizione. Attratti dall'anteprima di Planes 2, missioni antincendio, la nuova avventura firmata a Disney sulle seconde possibilità che uscirà in Italia a partire dal 28 agosto. Attratti dalla pattuglia acrobatica italiana We Fly a Team, l'unica al mondo composta da piloti disabili che volano su aeree ultraleggeri con comandi modificati che hanno solcato il cielo del Giffoni Experience. Attratti da Piff, il regista di La mafia uccide solo d'estate che si è confrontato con la platea dei giurati. Devo venire più spesso a Giffoni fa bene a Lego, ha detto Pierfrancesco Di Liberto, che ha chiesto ai ragazzi di Giffoni di individuare i loro eroi prima che sia la mafia ad indicarli uccidendoli. Piff ha promesso che tornerà a Giffoni l'anno prossimo per presentare il suo nuovo film. Ma è stata l'anteprima di Plains 2 a far decollare il Giffoni Film Festival, alla presenza dell'assessore regionale alla promozione culturale Caterina Miraglia, del sindaco di Giffoni Russo Mando, del direttore del festival, Gubitosi. Decine di palloncini colorati hanno inondato il ciro di Giffoni, mentre i giurati della sezione Elements più 6 si godevano nella sala François Truffaut, volante prima di Plains 2, non prima di aver conosciuto il produttore Feral Barron ed il regista Bob Sganaway e i doppiatori italiani Marco Marzocca, la voce di vento di tuono, Enzo Savi ed Antonio Montieri, in arte Savi e Montieri, Andrea Contaldo, sgocciolo, ed il comandante Federico Max di In Aero Aviation Italia, l'aereo bullo. Alla fine del film i giurati hanno rivolto numerose domande sia al regista sia al produttore del film e poi ai vigili del fuoco in carne ed ossa, potendo così confrontare l'animazione con la realtà. In sintesi, il significato più profondo del Giffoni Film Festival. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.